La passata perfetta ovviamente si parte da un pomodoro perfetto ma non di forma o di colore ma proprio di qualità. Nelle conserve la batteria prima è fondamentale, fondamentale la qualità e anche il grado di maturazione in questo caso per la conserva di pomodoro. Noi vediamo qui una piccola imperfezione, questo è segno che sicuramente è un pomodoro non trattato, quindi ben venga, saremo noi a eliminarlo. Anche i pomodori troppo perfetti mi mettono dei dubbi e poi spesso sono troppo acquosi. Poi usando o la macchinetta o anche un passaverdure casalingo noi ci aiutiamo con magari un passino in modo di poter scolare l'acqua in eccesso e avere una polpa più densa. Questo sicuramente ci aiuta. Poi l'importante è il tipo di conservazione, possiamo usare dei barattoli più grandi, alcuni più bassi, non ha importanza. L'importante sono le chiusure. Sulle chiusure tipo queste dopo la bollitura di oltre un'ora dobbiamo evitare questo rumore e clic clac. Mentre su questi aggancio dobbiamo verificare se è avvenuto il sottovuoto. Allora possiamo stare sicuri. Ovviamente sempre per maggiore garanzia nel momento che andiamo ad aprire la nostra esperienza, l'odore eccetera ci aiuta a vedere se si è conservato in maniera corretta. Quindi procediamo a invasare. Riempiamo quasi all'orlo. Qualcuno può anche mettere degli odori ma io eviterei più è pura meno andiamo a contaminare e a creare ambiente a rischio. Abbiamo detto chiudiamo e poi l'importante è immergerla nell'acqua quindi completamente coperta con magari dei canovacci per evitare che si rompano fra di loro. E dopo un'ora di bollitura noi spegniamo e lasciamo un'acqua calda fino a che l'acqua non si fredda. Dopodiché li tiriamo fuori e facciamo questa verifica. Questo vediamo non ha il sottovuoto. Questo ha il sottovuoto. Un'altra cosa, il pomodoro deve avere, cioè ha un pH acido di suo ed è per questo che noi nella conservazione non aggiungiamo aceto come invece dobbiamo fare nelle conserve delle altre verdure. Le conserve, il rischio butulino fatto in casa è altissimo. Con il pomodoro che è un prodotto acido siamo tranquilli. Se poi vogliamo cedere in tranquillità un goccio di aceto o un cucchiaino di zucchero.